E' morto Richard Franklin, era il 25 dicembre 2023 ieri e pensate che era un famoso attore americano, famoso perché interpretò il ruolo del capitano Mike Hayes in Doctor Who, questa pellicola del 71, cioè da 71 al 74. Tanti personaggi lo hanno ricordato, un personaggio veramente unico nel suo genere, carismatico, sempre con il sorriso stampato in bocca e è stato annunciato alla sua fine anche grazie ad un altro collega che ha voluto ricordarlo. Era nato nel 36, avrebbe compiuto ieri, cioè avrebbe compiuto, scusatemi, il 15 gennaio di 88 anni, se ne va a 87. Non era il primo vero ovviamente in una carriera sforgorante, interpretò luoghi cinematografici e televisivi importanti, trascorrendo gran parte della sua esistenza in diversi parcoscenici cinematografici. Apparbe anche in diversi programmi tv inglesi, tra cui Crossroads, Emmerdale Farm, veramente un personaggio unico e laconico al tempo stesso, ma anche polietrico. Non ho in un lato da aggiungere, Richard Franklin riposi in pace, amen.